I pendolari non sanno più a che santo votarsi. Nuova protesta dei comitati che raccolgono gli utenti delle tratte ferroviarie gestite da Trenord, fra le quali anche la Lecco Milano e la Comolecco. In queste settimane i complici riflessi del covid sono ulteriormente aumentati i disagi per quanti ogni giorno prendono il treno per andare a lavorare. Per la terza volta dunque i pendolari scrivono al governatore Attilio Fontana la luce anche del fatto che alle loro precedenti sollecitazioni ha risposto la stessa Trenord, accusando senza giri di parole i comitati di fare disinformazione. La società che gestisce il servizio ha specificato con una lettera aperta a tutti gli utenti come l'offerta dei treni sia stata ridotta del 12 per cento a Natale e del 10 per cento a Gennaio, valori in linea se non al di sotto di quelli registrati nelle altre regioni. Una risposta che non incontra il favore degli utenti che ora chiamano in causa di nuovo il governatore. Non intendiamo in questo momento entrare nel merito dei punti elencati dall'azienda sui quali peraltro non abbiamo alcuna difficoltà da affrontare un serio confronto nelle opportune sedi, scrivono i comitati pendolari rivolgendosi a Fontana. Invece la nostra intenzione è chiedere nuovamente se il governo regionale ritenga accettabile l'attuale livello del servizio ferroviario e soprattutto quale futuro intenda dare allo stesso. Considerato il progressivo ridimensionamento iniziato fin da prima e indipendentemente dalle contingenti vicende del covid che hanno solo evidenziato le fragilità di un'azienda che anche in tempi ordinari si trovava costantemente in affanno. Si tratta di una risposta politica non tecnica concludono i pendolari che spetta al titolare del servizio e non al fornitore e su questo attendiamo fiduciosi riscontro e indicazioni da lei presidente della nostra regione.